Dunque vorrei parlare di una questione abbastanza attuale che sta facendo discutere parecchio l'opinione pubblica. Prima però vorrei ringraziarvi, ringraziare tutti quelli che si sono iscritti a Bosco Cedo Prog, questa piattaforma contenuti in abbonamento sta decollando e siamo molto contenti, io sono molto soddisfatto di questo e soprattutto dell'affetto che continuate a dimostrare nei confronti di quello che faccio. Vorrei precisare ancora che anche se ormai novembre è già iniziato da giorni è possibile iscriversi in qualsiasi momento del mese perché tanto poi si può accedere per un mese di seguito dalla data della propria iscrizione ai contenuti del mese in corso, quindi voi potrete per esempio iscrivendovi oggi 8 novembre così potrete visionare tutti i contenuti caricati a novembre, sia quelli già caricati sia quelli che verranno ancora caricati fino al 9 di dicembre. Non potrete vedere i contenuti di dicembre se il vostro abbonamento si limiterà a novembre. Quindi ci si può iscrivere in ogni momento e godere sempre dei diritti relativi ai contributi caricati nel mese in corso. Vorrei anche sottolineare che questo progetto per quanto abbia superato la soglia minima che ci eravamo così prefissati a livello di iscrizioni per poter coprire i minimi costi e comunque è ancora sperimentale, durerà per ora, la scadenza è un anno, quindi gli abbonamenti annuali abbiamo deciso di permetterli soltanto fino alla fine di novembre e quindi potranno coprire i contenuti fino alla fine di ottobre 2020, mentre poi da dicembre le iscrizioni saranno accettate soltanto a livello semestrale o trimestrale in modo da per ora non estendere qualsiasi iscrizione al di là di ottobre 2020. Quando saremo pronti e ci renderemo conto che la piattaforma può continuare avviseremo e a questo punto riattiveremo qualsiasi forma di abbonamento ulteriore che possa coprire un periodo maggiore al di là dell'ottobre 2020. Aggiungo che ci sono molti progetti, mi piacerebbe per esempio all'interno di questo Bosco C2 Pro di inserire una specie di TG libri, un TG letterario, una cosa un po' diversa dal solito con una collaboratrice che introducesse di volta in volta un libro con un taglio particolare cioè anche un classico, non è una questione di pubblicità, qualsiasi libro che possa essere consigliabile per capire meglio per esempio una certa fase storica, magari andando al di là di quello che dicono i libri di testo oppure una certa angolazione filosofica. Quindi è importante anche questa idea di passare in rassegna dei libri che consideriamo fondamentali. Un'altra idea che a me è venuta e che mi piace tantissimo sperando di potercela fare è che facendo un conto così un po' della serva, un po' alla Carlona o così più o meno raggiunto la convinzione, anche se poi verificherò meglio, che dovessimo mai arrivare alla soglia del 3.000 iscritti, io con quella soglia potrei addirittura permettermi una specie di collegio docenti, cioè un insieme di insegnanti in grado di attivare corsi di tutte le materie fondamentali dalle elementari alle superiori in modo da permettere a chi non va a scuola o chi appunto fa privatista o chi vuole ripassare eccetera, di avere lezioni per dei cicli completi su tutte le materie. Sarebbe bellissimo, sarebbe equivalente a mettere su una scuola via internet ma ce ne sono altre ma il requisito fondamentale non sarebbe quello manageriale e aziendale che va di moda adesso nella scuola pubblica sarebbe invece l'idea di fornire insegnanti intanto selezionati accuratamente per quel che attiene soprattutto la loro capacità di coinvolgimento, la loro passione e poi la loro trasparenza o meglio la loro indipendenza, il loro saper slegarsi dalle convinzioni politiche o religiose e il loro cercare di essere il più possibile indipendenti appunto e trasparenti nella loro nella trasmissione dei contenuti. Ecco questo è quello che mi viene in mente adesso di dire è chiaro che la qualità delle immagini migliorerà, adesso la situazione non è facile ma migliorerà man mano che entreranno dei fondi appunto e questo non può che accadere attraverso le vostre iscrizioni ma se davvero questa cosa avrà un seguito e verrà effettivamente apprezzata è chiaro che cercheremo di migliorarla sempre di più, espanderla e farla diventare una cosa veramente professionale è sempre più professionale, anche se a livello di studio la professionalità cerco di mettercela tutta per quel che posso. Aggiungo ancora che sono in previsione caricamenti, uno imminente circa una scoperta archeologica risalente, cioè relativa a un periodo dei primi 30 anni dopo Cristo che è in grado secondo me di proiettare una luce nuova su un personaggio importante anche citato nei Vangeli e quindi è una cosa interessante e subito dopo potrebbe esserci ed è in via di preparazione un contenuto relativo alla storia della prescrizione da parte della Chiesa Cattolica del celibato ai preti un argomento assolutamente attuale vista la questione dell'ultimo sinodo sull'Amazzonia che appunto ha sollevato questo problema e non tanto sulla storia di questa consuetudine ma soprattutto su un particolare, su una fase importante del concilio di Nicea che secondo me è interessante anche per far luce sulla censura che rispetto a quello che è successo in relazione a questo tema in quel concilio è stata fatta una censura che cercherò di smascherare portando passi di antichi libri che sono stati assolutamente cassati e eliminati dalle edizioni più recenti di quegli stessi libri dalla censura del concilio di Trento e quindi la censura tridentina della controriforma quanto all'argomento a cui stavo alludendo io sto pensando con molta tristezza a questo Giovanni o Giovannino questo bambino affetto da una malattia terrificante veramente devastante in tutti i sensi ne avrete probabilmente sentito parlare una malattia che trasfigura un individuo lo rende assolutamente impresentabile oltre che esposto a continue infezioni e malattie e alla vicenda che ha a che fare che attiene a questa nascita di un bimbo affetto da questa malattia un bambino che ha colto di sorpresa i suoi genitori in quanto non è stato possibile evidentemente non è possibile al giorno d'oggi prevedere con le varie ecografie questo genere di problematica così grave stiamo parlando di una forma di malattia che porta quasi sempre alla morte e che se non porta alla morte comunque porta a una situazione di invivibilità al 100% e di una forma di lasciatemelo dire anche se con molta tristezza mostruosità che poi inficia a qualsiasi forma di rapporto di relazione e che può portare a una disperazione folle oltre che appunto a uno stato di malattia continuo questi genitori hanno scelto di non riconoscere questo bambino che probabilmente finirà in qualche comunità e ben vengano queste comunità che si prenderà cura di lui per esempio probabilmente il cottolengo ma la cosa che mi ha dato più fastidio in questa situazione è stata questa retorica di ben pensanti come Giannini della Repubblica come Gramellini ben pensanti di cui non riesco in alcun modo a condividere il pensiero che si sono subito accaniti puntando il dito contro diciamo così la cattiveria la disumanità di questi genitori oppure facendo della retorica spiccia arrivando a sostenere che ci siano i telefoni che squillano in continuazione in questo ospedale perché centinaia di genitori vorrebbero questo bambino quando in realtà questo bambino fino a questo momento non lo ha accolto nessuno perché la situazione è veramente spaventosa e io mi chiedo insomma io capisco quanto sia importante l'accoglienza e quanto sia importante salvaguardare la vita e quanto sia importante il rapporto tra genitori e figli quello che non sopporto veramente è questa capacità di mettersi a giudicare di ergersi a giudici di puntare il dito senza rendersi conto di tutta la fortuna che abbiamo avuto noi a non aver vissuto una situazione di questo tipo e magari senza nemmeno chiedersi cosa avremmo fatto realmente noi al posto di questi genitori se fosse accaduta una cosa terrificante di questo tipo ecco questa incapacità di mettersi nei panni degli altri anzi di batter cassa subito con frasi fatte articoli a effetto più o meno demagogici o comunque questo sentirsi dalla parte dei buoni e degli umani che sanno avere un cuore così e che sono sempre pronti ad accogliere qualsiasi cosa la considero peggiore della freddezza di chi spesso non se la sente di prendere delle responsabilità anche in situazioni molto meno gravi di questa io ringrazio soltanto di aver avuto delle figlie sane fino a questo momento non so assolutamente come mi sarei comportato di fronte a una situazione del genere credo che sia troppo facile davvero troppo facile volgarmente troppo facile prendersi la briga di arrogarsi il diritto di giudicare gli altri senza essere passati in situazioni del genere e credo che anche questo tipo di vicenda così terribile possa veramente e debba veramente far riflettere sulla situazione in cui stiamo vivendo sulla glacialità delle nostre emozioni sull'intransigenza che il nostro piccolo pensiero sta rivelando e sulla assoluta incapacità di capirci gli uni gli altri e di imparare a non giudicare così tanto ma ad accogliere in un modo diverso che non è semplicemente quello retorico ma è anche la capacità di accogliere le idee diverse degli altri rispetto alle nostre scelte che non sono le nostre senza giudicare sempre alla luce di una tradizione o di una religione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti